Senza fiato, po', oh non fiatare, melodie di Moore. Anche la più sfacciata sfortuna deve pur finire col sottomettersi al coraggio maestanco della filosofia, come la più ostinata città alla vicinanza senza tregua di un nemico. Salmanezer, si è letto nella Sacra Scrittura, restò per tre anni dinanzi a Samaria, la quale infine gli cedette. Sardana Palo, vedi Diodoro, seppe resistere per sette anni in Ninive, ma non gli valse nulla. Troia cadde al compiersi del secondo lustro. Azzotto, come sostiene Aristeo, sul suo onore di gentiluomo, aprì in ultimo le porte di Psammitico, dopo un quinto di secolo che le teneva sbarrate. Oh scellerata, iena, sciacalla, dissi a mia moglie la mattina seguente alle nostre nozze, strega, megera, brutta carogna, cloaca di iniquità, oh mostruosa quintessenza di tutto quanto esiste su questa terra di abobinevole, oh oh! E qui alzatomi sulla punta dei piedi, ghermendola per la gola e avvicinandomi con la bocca al suo orecchio, mi preparavo a scagliare un nuovo e più esplicito epiteto di obbrobrio, che non avrebbe mancato, se fossi riuscito a buttarlo fuori, di convincerla sulla sua nullità, quando con mio estremo sballordimento ed orrore, mi accorse che avevo perduto il fiato. Le frasi, mi manca il fiato, non ho più fiato, eccetera, ricorrono abbastanza spesso nella comune conversazione, ma io non avevo mai supposto che il terribile accidente di cui parlo potesse, buona fide, accadere nella realtà. Immaginate, seppur avete della fantasia, immaginate dunque la mia costernazione e il mio disperato stupore. C'è un buon genio, tuttavia, che non mi ha mai abbandonato del tutto. Anche nei miei momenti di più intrattabile umore, mi riesce sempre di mantenere un certo senso delle convenienze, e le chemin de passion mi conduì, come nella Julie dice di se stesso Lord Edward, alla philosophie veritable. Non potendo alla prima stabilire con precisione sino a qual grado l'accidente mi avesse colpito, decisi, per ogni evenienza, di nascondere la cosa a mia moglie, fino a che un ulteriore esperimento non mi avesse rivelato l'estensione di questa mia inaudita calamità. Mutando dunque ad un tratto il mio stravolto e irato aspetto in una espressione di astuta benignità civettuola diedi alla mia signora un buffetto sopra una guancia e un bacio sull'altra e senza dire una sillaba non lo potevo. Oh furie! La lasciai sbalordita per la mia bizzarria mentre piroettavo in un padezèfir fuori dalla stanza. Consideratemi dunque nascosto bene al sicuro nel mio privato boudoir spavento un esempio delle cattive conseguenze dell'irascibilità vivo nelle condizioni di un morto morto con le inclinazioni di un vivo un'anomalia sulla faccia della terra perfettamente calmo e però senza fiato. Proprio senza fiato non scherzo mica a dirlo il mio fiato era interamente scomparso non avrei potuto neanche se ne fosse dipesa la mia vita soffiare via una piuma né appannare la delicata superficie di uno specchio duro destino non di meno provai qualche sollievo il primo insopportabile parossismo del mio dolore trovai alla prova che le mie facoltà di pronunciare le quali per la mia incapacità di procedere nella conversazione con mia moglie avevo ritenute totalmente distrutte erano invece impedite solo in parte e mi accorsi che se al momento di quella straordinaria crisi avessi abbassato la voce sino a un profondo tono gutturale avrei potuto continuare a comunicarle i miei sentimenti questo tono di voce gutturale dipendendo come rilevai non già dalla corrente del respiro ma da una certa tensione dei muscoli della gola lasciatomi cadere su una seggiola rimasi per qualche tempo assorto in meditazione le mie riflessioni di certo non erano di genere consolatorio mille vaghe e lacrimevoli fantasie si impossessarono del mio animo e anche l'idea del suicidio mi attraversò il cervello ma la perversità dell'umana natura conduce a risettare l'ovvio e l'immediato per il remoto e l'equivoco così io rabbrividii all'idea del suicidio come alla più esplicita delle atrocità mentre il mio gatto soriano faceva furiosamente le fuse sul tappeto e il mio cane da caccia ansimava senza tregua di sotto la tavola intendendo entrambi darsi un gran merito per la forza dei loro polmoni a delizione si capisce della mia incapacità oppresso da un tumulto di vaghi timori e speranze udii alla fine i passi di mia moglie di scendere le scale assicuratomi così della sua assenza da casa tornai con cuore palpitante a occuparmi del mio disastro serrata con cura la porta intrapresi una ricerca vigorosa pensai possibile che mi capitasse di scoprire celato in qualche angolo oscuro o dentro a qualche armadio il perduto oggetto delle mie indagini poteva anche avere una forma vaporosa una forma tangibile perché no? molti filosofi intorno a non pochi argomenti di filosofia sono tutt'altro che filosofici William Godwin comunque nel suo Mandeville dice che le cose invisibili sono le sole reali e questo tutti ne converranno è un'affermazione che faceva il caso mio vorrei che il lettore giudizioso non si precipitasse a tacciare simili sentenze di un illecito quantum di assurdo Anasagura ricorderò sosteneva che la neve è nera e io in seguito ho potuto constatare che non si sbagliava a lungo e con fervore proseguì le indagini ma la sprecevole ricompensa della mia perseveranza e della mia industria non fu altro che una dentiera un paio di fianchi un occhio e un certo numero di biglietti galanti di Mr. Wind e Naug a mia moglie potrei osservare che questa conferma della parzialità della mia signora per Mr. Wind non mi causò che pochissima inquietudine era un male naturale necessario che Mrs. Blackbreath mancasse di fiato in altri termini senza fiato era un male naturale necessario che Mrs. Blackbreath dovesse ammirare una persona così dissimile da me io sono e risaputo di aspetto robusto e corpulento e allo stesso tempo e quanto piccolo di statura qual meraviglia dunque che l'esilità da giunco del mio conoscente e la sua altezza che è diventata proverbiale non dovessero incontrare tutta la stima agli occhi di Mrs. Blackbreath ma torniamo al fatto le mie sforze ripeto non approdarono a nulla un armadio dopo l'altro un diretto dopo l'altro un angolo dopo l'altro tutto vennero vistato senza frutto a un certo momento tuttavia mi credetti sicuro della mia ricompensa avendo nel frugare dentro a una cassa panca accidentalmente demolito una bottiglia d'olio degli arcangeli Grandjean che mi piglio la libertà di raccomandarvi per il suo gradevole profumo con il cuore pesante tornai al mio boudoir a ponderare intorno a qualche metodo capace di eludere la penetrazione di mia moglie sino a che avessi potuto essere pronto per la partenza da quei luoghi poiché questo m'ero deciso in clima straniero essendo sconosciuto mi sarebbe stato possibile con qualche probabilità di successo sforzarmi di nascondere la mia sventurata calamità una calamità proprio adatta anche più dell'intelligenza ad alienare le simpatie della moltitudine e ad attirare sul disgraziato la ben meritata indignazione dei virtuosi e dei felici non esitai a lungo con la rapidità che mi è naturale imparai a memoria l'intera tragedia amata a moro m'ero ricordato per mia fortuna che nell'accentuazione di questo dramma o almeno della parte assegnata all'eroe i toni di voce dei quali mi trovavo in difetto non erano affatto necessari e che il gutturale profondo doveva unicamente regnare dalla prima all'ultima parola mi esercitai per qualche tempo lungo le rive di uno stagno molto frequentato questo tuttavia non già per imitare Demostrene ma ad uno scopo peculiarmente e coscienziosamente mio armato così di tutto punto decisi di far credere a mia moglie di essere improvvisamente preso da una passione per la scena ed ebbi un successo miracoloso ad ogni domanda ad ogni intimazione mi trovai libero di rispondere nei miei toni di voce più gracidanti e sepolcrali con qualche passaggio della tragedia ogni parte della quale come tosto osservai con grande piacere poteva egualmente bene venire applicata a qualsiasi soggetto non è da supporre naturalmente che nel riferire quei passaggi io non fossi capace di guardare bieco mostrare i denti piegare i ginocchi strascicare i piedi e di tutte quelle altre indicibili grazie che giustamente sono considerate al giorno d'oggi caratteristiche di ogni attore in voga senza dubbio si parlò di confinarmi in una camicia di forza ma per dio nessuno mi sospettò mai di aver perduto il fiato sistemate che ebbi alla fine le mie faccende presi posto di buon'ora un mattino nella diligenza per dando ad intendere ai miei conoscenti che un affare di importanza estrema esigeva la mia immediata presenza in quella città la vettura era sovraccarica ma nell'incerto crepuscolo non potevo distinguere le fattezze dei miei compagni senza opporre resistenza mi rassegnai ad essere situato tra due gentiluomini di dimensioni colossali mentre un terzo di mole ancora più grande scusandosi per la libertà che si prendeva mi si gettò ad osso in tutta la sua estensione e addormentandosi sull'istante soffocò tutte le mie gutturali implorazioni di un po' di sollievo con un russare che avrebbe fatto vergognare il toro di falaride dei propri mugiti e per fortuna lo stato delle mie facoltà respiratorie rendeva la soffocazione un accidente affatto fuori di conto quando ad ogni modo mentre ci avvicinavamo ai soborghi della città il giorno cominciò a farsi più chiaro il mio tormentatore alzandosi ed aggiustandosi il colletto mi ringraziò in maniera estremamente amichevole per la mia cortesia ma vedendo che restavo immobile con le membra tutte slogate e il capo torto da un lato cominciò ad avere qualche apprezzione e svegliato il resto dei passeggeri comunicò loro recesamente la sua opinione che un morto era stato gabellato loro durante la notte per un viaggiatore vivo e responsabile e qui come a dimostrare la verità della sua affermazione mi diede un colpo nell'occhio destro su questo tutti l'uno dopo l'altro ed a gran voce nella compagnia si credettero in obbligo di tirarmi le orecchie avendo poi un giovane medico applicato uno specchietto tascabile dinnanzi alla mia bocca e trovato che non avevo respiro l'asserzione del mio persecutore fu proclamata veritiera e tutta la compagnia espresse la determinazione di non soffrire mai più piccolilmente simili imposizioni per il futuro e di non procedere oltre con una tale carcassa per il presente in conseguenza di ciò mentre la vettura si trovava a passare da una taverna all'insegna del corvo venne gettato fuori senza altri accidenti che la rottura di entrambe le braccia sotto la ruota posteriore sinistra del veicolo devo d'altra parte render giustizia al postiglione che non si dimenticò di gettarmi dietro il più grosso dei miei bauli il quale cadendomi per sfortuna sul capo mi fratturò la calotta cranica in una maniera ad un tempo interessante e straordinaria l'oste del corvo è un uomo ospitale e considerato che il mio baule conteneva abbastanza da indennizzarlo per tutti i piccoli disturbi che si fosse presi a causa mia mandò sull'istante a cercare un chirurgo di sua conoscenza e mi rimise alle sue cure rilasciandogli un biglietto di ricevuta per 10 dollari il compratore mi portò nei suoi appartamenti e cominciò subito le operazioni tagliatemi le orecchie tuttavia si accorse di qualche segno d'animazione suonò allora il campanello e mandò a chiamare uno speziale di là vicino col quale consultarsi in quell'emergenza nel frattempo per il caso che i suoi sospetti riguardo alla mia esistenza dovessero in ultimo risultare confermati egli praticò un'incisione nel mio stomaco e asportò una buona parte delle mie viscere per una dissezione privata lo speziale si manifestò del parere che io fossi realmente morto se fatto parere io mi sforzai di confutare sparando calci e scotendomi con tutta la mia forza e dandomi ai più furiosi contorcimenti poiché le operazioni del chirurgo mi avevano in una certa misura ristabilito nel possesso delle mie facoltà tutto questo non di meno venne attribuito agli effetti di una nuova batteria galvanica con la quale lo speziale che in vero è un uomo informatissimo effettuò svariati curiosi esperimenti ai quali per la parte personale che avevo nella loro riuscita non seppi fare a meno di sentirmi profondamente interessato e però fu per me causa di mortificazione che malgrado facesse ripetuti sforzi per conversare le mie facoltà vocali restassero talmente inerti che non riuscì ad aprire bocca e meno che mai si capisce a replicare a certe ingegnose ma fantastiche teorie di cui in altre circostanze la mia minuta conoscenza della patologia ipocratica mi avrebbe permesso di dare una pronta confutazione incapace di concludere i due mi rimandarono ad ulteriore disamina fui trasportato in una soffitta e la signora del chirurgo avendomi fornito di calzoni e di calze il chirurgo stesso mi assicurò le mani e mi legò le macelle dentro un fazzoletto da tasca quindi mise il catenaccio alla porta dal di fuori e accorse a pranzare lasciandomi solo al silenzio e alla meditazione allora scopersi con estrema gioia che mi sarebbe stato possibile parlare se non avessi avuto la bocca legata col fazzoletto confortato da questa riflessione stavo ripetendomi mentalmente alcuni passaggi della onnipresenza divina come è mio costume prima di abbandonarmi al sonno quando due gatti di vorace e vituperosa natura entrati da un buco nel muro saltarono in aria con un ghirigoro alla catalini e piombandomi sul viso l'uno contro l'altro si diedero a una indecorosa contesa per il meschino obiettivo del mio naso ma come la perdita delle orecchie fornì a Ciro Savio di Persia il modo di elevarsi al trono e come la tagliata del naso mise Zopiro in possesso di Babilonia così la perdita di alcune once della mia faccia fu per me la salvezza del corpo stimolato dal dolore acceso dall'indignazione strappai con un solo sforzo vende i legami mettendomi poi a camminare a gran passi attraverso la stanza lanciai uno sguardo di disprezzo ai belligeranti e spalancata al loro estremo orrore e disappunto alla finestra mi precipitai con destrezza giù dal davanzale in quel momento W.V. famoso assaltatore di dirigenze al quale io somigliavo in maniera singolare veniva condotto dalla prigione alla forca eretta nel suburbio per la sua esecuzione la sua estrema debolezza e la salute da lungo tempo andata a male gli avevano basso il privilegio di non essere ammanettato sicché vestito del suo costume da patibolo in tutto simile al mio diceva disteso in fondo alla carretta del boia che si trovava a passare sotto le finestre del chirurgo proprio nel momento in cui m'ero buttato senza altra guardia che il conducente il quale dormiva e due reclute del sesto fanteria che erano ubriache sfortuna volle che io cadessi in piedi dentro il veicolo da brus che era un astuto individuo si rese subito conto dell'occasione favorevole balzato in piedi sull'istante egli si lanciò fuori per il di dietro e svoltando in un viale scomparve dalla vista in un batter d'occhio le reclute svegliatesi al trambusto non poterono afferrare con esattezza il significato del trascorso vedendo tuttavia un uomo precisa copia del fellone in piedi nel carro dinanzi ai loro occhi furono d'opinione che il birbante intendo WV per tale stesse preparandosi alla fuga così si espressero comunicatasi a vicenda questa opinione e bevuto un sorso mi abbatterono col calcio dei loro moschetti non passò molto tempo che arrivammo al posto destinato naturalmente non c'era nulla da dire in mia difesa l'impiccagione mi aspettava inevitabile fatto con un sentimento a metà di stupore a metà di acrimonia mi ci rassegnai senza essere molto cinico avevo tutti i sentimenti di un cane e ad ogni modo il boia mi accomodò il laccio al collo la botola si aprì tralascio di descrivere le mie sensazioni sulla forca sebbene su questo punto senza dubbio potrei parlare con conoscenza di causa ed è un soggetto sul quale nulla è stato ancora detto di preciso difatti a scrivere di un tale tema è necessario essere stato impiccato ogni autore dovrebbe limitarsi alla materia di propria esperienza così come Marco Antonio che compose un trattato sull'ubriachezza però tuttavia che non morì il mio corpo fu sì impiccato ma io non avevo fiato per esserlo e tranne per il nodo sotto l'orecchio sinistro che mi dava l'impressione di portare un colletto da militare oso dire che non ebbi molto incomodo mentre lo strappo sofferto dal mio collo all'aprirsi della botola risultò un correttivo alla storta procuratami dal grasso gentiluomo della diligenza avevo le mie buone ragioni tuttavia per dare alla folla il premio del suo disturbo così le mie convulsioni vennero trovate straordinarie i miei spasimi batterono ogni primato la plebaglia voleva il bis parecchi signori svennero e una moltitudine di dame fu portata a casa in piena crisi di sterismo pinksit si vansi dell'occasione per ritoccare da uno schizzo preso sul luogo il suo ammirevole quadro di mursia spellato vivo quando ebbi dato sufficiente spettacolo fu creduto opportuno rimuovere il mio corpo dalla forca tanto più che nel frattempo era stato ripreso e riconosciuto il vero colpevole del quale fatto per mia disgrazia non ero venuto a sapere nulla naturalmente molta simpatia fu manifestata in mio favore ma siccome nessuno reclamava il mio cadavere fu disposto perché mi si sotterrasse nella cella comune qui lasciato trascorrere il dovuto intervallo venne deposto e il beccamorti se ne andò e io rimasi solo un verso del malcontento di marston la morte buona compagna e ti tiene casa aperta mi colpì in quel momento come una palpabile menzogna ad ogni modo feci saltare il coperchio della bara e usci fuori il luogo era umido spaventosamente tetro e la noia cominciò a tormentarmi per darmi da fare mi aprì una strada tra le numerose bare disposte in ordine tutte intorno e tiravo giù l'una dopo l'altra e rompendone il coperchio mi occupavo in speculazioni sui defunti che vi erano dentro costui monologavo sopra una gonfia panciuta carcassa costui è stato senza dubbio in ogni senso della parola un infelice uno sventurato ha trovato il terribile destino non già di camminare ma di tracinarsi barcolloni di andare attraverso la vita non come un essere umano ma come un elefante un rinoceronte i suoi tentativi di avanzare sono stati veri aborti i suoi movimenti per girare tangibili fiaschi ha avuto la disgrazia di dover fare due passi a destra e due a sinistra per procedere di un solo innanzi i suoi studi si sono limitati alla poesia di crabbe non ha potuto mai avere un'idea della meraviglia di una pirouette per lui un pa de papillon è rimasto una concezione astratta e mai è asceso al sommo di una collina mai ha contemplato da qualche campanile le glorie di una metropoli nel calore ha avuto un nemico mortale durante la canicola ha trascorso giornate da cane allora ha sognato fiamme e soffocazione montagne sopra montagne pelion sopra ossa era corto di fiato sì per dirla in una parola egli era corto di fiato suonare degli strumenti a fiato gli sembrava la cosa più stravagante di questo mondo e fu inventore dei ventagli automatici pompe d'aria ventilatori protesse dupont il fabbricatore di mantici e morì miseramente tentando di fumare un sigaro il suo caso sveglia in me un profondo interesse io provo per il suo destino la più sincera simpatia ma questo dissi questo e dispettosamente tirai fuori dal suo ricettacolo una lunga forma lampanata il cui singolare aspetto mi colpì con un senso di sgradevole familiarità questo è un miserabile che non ha diritto a nessuna commiserazione terrena e così dicendo per avere in una più chiara visuale il mio soggetto ghermitolo tra indice e pollice per il naso lo misi a sedere sul suolo tenendolo fermo in tal modo col mio braccio disteso mentre proseguivo il mio soliloquio non ha diritto ripetei ad alcuna commiserazione terrena che d'altra parte potrebbe pensare di aver compassione di un'ombra non ha egli avuto tutta la sua parte delle beatitudini dei mortali è stato lui la causa dei monumenti elevati delle torri a guglia dei parafulmini dei pioppi di lombardia il suo trattato sulle ombre lo ha reso immortale con notevole abilità gli ha curato l'ultima edizione dello scirocco nelle ossa in collegio ha studiato da giovanissimo la pneumatica tornato a casa poi non faceva che parlare e suonava il corno francese patrocinava i suonatori di cornamusa il capitano berkley che gareggiò implodismo con time non ce l'avrebbe fatta con lui windman e albrecht erano i suoi scrittori preferiti il suo artista prediletto era fitz morì gloriosamente inalando del gas levico e fatu corrompitur come secondo gli eronimo la faina pudicizie senza dubbio egli fu come potete come potete interruppe l'oggetto della mia animosa avversione cercando di prender fiato e strappandosi con un disperato sforzo la benda d'attorno alle macelle come potete mister lecbriet essere di così infernale crudeltà da stringermi il naso a questo modo non avete visto come mi avevano imbavagliato e voi dovete sapere se pur sapete qualche cosa di quale grande superfluità di fiato disponga se tuttavia non lo sapete sedetevi e vi farò vedere nella mia situazione è veramente un gran sollievo poter aprire la bocca potermi espandere poter comunicare con una persona come voi che non vi ritenete obbligato di interrompere ad ogni periodo il filo del discorso d'un gentiluomo le interruzioni sono seccanti e dovrebbero senza dubbio venire abolite non vi pare non rispondete ve ne prego è meglio che ci parli uno alla volta io avrò presto finito e allora potrete incominciare voi per quale diavolo signore siete finito in questo luogo non una parola vi scongiuro anch'io sono qui da qualche tempo terribile accidente ne udiste parlare suppongo spavento calamità passeggiando sotto le vostre finestre or non è molto nei giorni che va preso la passione per la scena un fatto orribile avete sentito parlare di trattenere il fiato eh state zitto vi dico ebbene ho trattenuto quello d'un altro ne ho avuto sempre di troppo del mio e incontrai blab all'angolo della strada mi lasciò dire una parola nemmeno di traverso una sillaba di conseguenza mi colse un attacco di epilessia blab se la svigna e tutti mi credono morto al diavolo gli imbecilli e mi hanno messo qui che bel modo di fare l'ho udito quello che avete detto di me ogni parola una bugia orribile sbalorditivo oltreggioso spaventoso incomprensibile eccetera 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 è impossibile immaginare il mio stupore a un discorso così inatteso né la gioia che mi prese quando a poco a poco riuscii a convincermi che il fiato tanto felicemente afferrato dal signore in questione che presto riconobi per il mio vicino Wind & Hog era in realtà la medesima ispirazione da me sbarrita mentre conversavo con mia moglie tempo luogo e circostanze rendevano la cosa fuori di dubbio tuttavia non lasciai subito la presa sulla proboscide di Mr. Wind almeno per tutto il tempo durante il quale l'inventore dei pioppi di Lombardia continuò a gratificarmi delle sue spiegazioni a procedere in tal modo io ero indotto da quella abituale prudenza che è stata sempre il mio tratto più spiccato pensavo che molte difficoltà potevano ancora trovarsi sulla strada della mia salvezza e che mi occorreva ancora un estremo sforzo per sormontarle molte persone pensavo inclinano a stimare le comodità di cui sono in possesso anche se per loro prive di valore imbarazzanti magari o penose in ragione diretta dei vantaggi che altri potrebbero derivare dall'ottenerle o dal puro fatto che sono state abbandonate non poteva essere questo il caso di Mr. Wind e dandogli e dandogli a vedere la mia ansietà per quel fiato di cui sul momento egli aveva tanta voglia di sbarazzarsi non mi esponevo magari alle estorsioni della sua avarizia ci sono dei furfanti a questo mondo ricordai con un sospiro che non si farebbero scrupolo di prendersi dei vantaggi sleali anche col loro più prossimo vicino del resto Epitteto osserva che appunto quando gli uomini sono più ansiosi di sbarazzarsi del fardello delle loro calamità meno che mai sentono il desiderio di alleviare quelle degli altri a considerazioni di questo genere e sempre mantenendo la mia presa sul naso di Mr. Wind io credetti opportuno di informare la mia risposta mostro cominciai in tono di profondissima indignazione mostro e idiota dal fiato doppio o tu che il cielo per le tue iniquità si è compiaciuto di maledire con una duplice respirazione come vuoi presumere di rivolverti a me nel linguaggio familiare di un vecchio conoscente state zitto ma proprio bel modo di parlare davvero a un gentiluomo con un fiato solo tutto questo poi mentre io potrei sollevarti dalla calamità che tanto giustamente ti fa patire mentre potrei sicuro tagliar via il superfluo della tua respirazione infelice come brutto mi fermai in attesa di una risposta con la quale Mr. Wind e Nog mi investì senza por tempo in mezzo alla stregua di un ciclone proteste seguirono a proteste e difese a difese non ci fu condizione alla quale egli non fosse disposto a sottomettersi e di nessuna io mancai di avvantaggiarmi nella maniera più assoluta sistemati alla fine i preliminari il conoscente mi lasciò la mia respirazione della quale dopo averla esaminata con ogni cura mi accusai di scevuta capisco che molti mi inviasimeranno per aver tratto in un modo tanto sommario una transazione così immateriale si penserà che avrei dovuto riferire minutamente tutti i particolari di un evento che è verissimo poteva gettare molta e nuova luce su un ramo così interessante della filosofia naturale mi spiace di non poter rispondere a tutto questo semmai è solo un accenno che mi ha concesso di dare vi furono delle circostanze ma a pensarci bene credo che sia molto meglio dire il meno possibile di una faccenda così delicata così delicata ripeto e che d'altra parte implica gli interessi di un terzo nei cui sul furo e i risentimenti non ho il minimo desiderio per il momento di incorrere adempiuta la nostra necessità non tardammo molto a realizzare l'uscita dai sotterranei del sepolcro la duplice forza delle nostre voci risuscitate si manifestò presto a sufficienza Scissors l'editoriale liberale rimise in circolazione un trattato sulla natura e origine dei rumori sotterranei una risposta quindi una replica una confutazione e una difesa seguirono subito sulle colonne di una gazzetta democratica e fu solo all'apertura del sepolcro ordinata per decidere la controversia che l'apparizione mia di Mr. Windermugh provò come entrambe le parti fossero decisamente in errore non posso conchiudere questi appunti intorno ad alcuni singolari momenti di una vita che fu del resto sempre avventurosa senza richiamare di nuovo l'attenzione del lettore sui meriti di quella irriducibile filosofia che è uno scudo pronto e sicuro contro gli strali di certe calamità che non si possono vedere sentire né pianamente comprendere nello spirito di questa saggezza si credeva tra gli antichi ebrai che le porte del cielo dovessero inevitabilmente aprirsi a quel tale peccatore o santo che con buoni polmoni e un'implicita confidenza avrebbe saputo scandire ad alta voce la parola Amen e ancora nello spirito di questa saggezza mentre una terribile pestilenza infieriva in Atene e ogni mezzo era stato tentato in vano per reprimerla Epimenide come Laerzio nel suo libro secondo riferisce consigliava l'erezione di un altare e di un tempio al dio più confacente